Neve e nevicate, gioia e dolore per molti, tanti disagi e situazioni critiche, ma anche l'occasione, soprattutto per i giovani, per non perdersi un divertimento inaspettato. Nei giorni delle scorse settimane, gli oltre 30 centimetri di neve caduti anche a bassa quota hanno trasformato i pendii di molti campi o colline in improvvisate piste da sci. Era sovente vedere in quei giorni, in pieno centro, come in campagna, decine di persone abbardate come se fossero sulla 3-3 di Madonna di Campiglio. Più era acceso il dislivello, maggiore era il divertimento e quindi muniti di slittini, bob, padelle, ci si buttava giù senza paura e chi non possedeva idonee attrezzature non voleva certo perdersi il divertimento e da allora, in questi casi, tutto fa brodo. Vecchi copertoni di auto, camere d'aria di camion, pezzi di plastica, tavole di legno e anche pesanti sacchi di plastica, insomma ogni cosa che consentisse di scivolare sulla neve veniva utilizzata. Tutto bello, tanto sano divertimento, gratis soprattutto senza schipasse, ma purtroppo, disciolta la neve, i nodi sono venuti al pettine. Siamo in un campo a ridosso di Monte Giove, dove il signor Tebaldi, che ne cura la coltivazione, ha fatto nei giorni scorsi una mara sorpresa. Decine e decine di rifiuti da scorribande nevose lasciati lì, in mezzo al campo, slittini rotti, buste di plastica, di tutto e di più utilizzato dalle centinaia e centinaia di persone che in quei giorni si sono divertite con la neve. Eh sì, ieri mattina quando sono arrivato ho visto tutte queste cose che hanno lasciato qualcuno, qualche ragazzo, penso che sono venuti a divertirsi con la neve. E' una cosa che non si può vedere, tutta questa plastica e tutto questo materiale che hanno lasciato. Un po' di educazione, un po' di rispetto per chi coltiva la terra, per i proprietari, un po' tutto quanto, perché non si può lasciare la roba in giro così. E' una gran maleducazione. C'è plastica, legni, segnale stradale, come si vede, un bob addirittura, sacchetti di immondisti, hanno lasciato, usati per lasciare, per fare come slittino, almeno riprendi le cose più grosse e portarle via. Se qualcosa rimane, messo la neve, pazienza, ma no una roba così, perché così vuol dire che hanno lasciato tutto, quello che hanno portato, hanno lasciato tutto quanto qua. E' troppo, è troppo questo. Ora, viste queste pietose immagini, chi si è reso artefice di questa pessima abitudine di lasciare agli altri il compito di ripulire le proprie schifezze, non sarebbe male che fosse colpito da un lampo di civile educazione ed andasse a riprendersi la sua immondizia dopo che il campo gli ha regalato invece tanto divertimento.